la solita voce baritonale di rosa vai impegnativa molto più impegnativa quel bianco lì cos'è? lì vediamo Montenero con il suo couloir H preparazione H a nostra destra ci dovrebbe essere la bocca d'amola a sinistra la bocca d'amola cresce a nord est quella che percorreremo sicuramente sicuramente non sappiamo neanche dove sia una bella giornata questa è una sbruffata di neve venuta giù tra i giri sere stanotte grazie alla cagata di Daniele quello è un mindo che sta su da sotto quel non è un lemure e niente ecco saranno più o meno le 7 e mezzo saranno più o meno le 7 e 08 ecco le 7 e 08 e non si vede più un Antonio e vai che fu? letto letto sono raccontati i nostri amici di te è raccontato le scorreggiate che l'abbiamo andato ieri sera abbiamo due amici austriati ha chigliato che l'uno ieri sera l'ultimo scorreggia la tipa è crollata bene la ripresa